Una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Fano TV per essere presenti alla rassegna La stampa del mattino sono le 7.01 e noi iniziamo la nostra trasmissione a partire appunto dal santo del giorno Oggi è mercoledì 29 novembre 2023 e vediamo subito chi si festeggia oggi Vediamo che San Saturnino di Tolosa visse nel terzo secolo evangelizzatore delle gaglie Fu ucciso dagli idolatri perché si rifiutò di ginocchiarsi di fronte agli dèi, agli dèi pagani ovviamente E fu legato alla coda di un toro che fu poi lasciato libero di scorazzare per tutta la città Finché il corpo del santo non fu ridotto a brandelli Una morte veramente terribile ma San Saturnino non rinunciò alla sua fede Vediamo ora le previsioni del tempo Il meteo di oggi ci dice che i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata I venti saranno al mattino moderati da ovest e sud-ovest, al pomeriggio deboli da est e sud-este Il mare è mosso, le temperature 5 la minima, 13 la massima e il sole sta per sorgere Sorgerà alle 7.20 e tramonterà alle 16.36 Ebbene con questo incipit possiamo sfogliare i giornali A partire oggi dal resto del Carlino Dove vediamo che l'apertura sulla pagina di Fano è dedicata ad un progetto che molti attendono Un progetto che è di là da venire ma piano piano sta facendo dei piccoli passi Ovvero quello dell'arretramento della ferrovia Pensate se tutta la fascia litoranea fosse liberata dai binari Ebbene si avrebbe, ora costituiscono una barriera questi binari Quindi si avrebbe una continuità tra centro storico e zona mare senza alcun ostacolo Vediamo subito il titolo Arretramenti ferrovia pronto il dossier Fanesi per non perdere il treno Ebbene il dossier è sulla scrivania del vice sindaco Cristian Fanesi Che sta esaminando lo studio di ferrovie dello Stato Entusiasti ovviamente gli albergatori perché questo darà un impulso al nostro turismo E per la stazione si pensa nella zona di Chiaruccia Forcolo Una chance anche per Marotta Il primo passo che intende compiere l'amministrazione comunale è quello di cercare un'intesa con il gruppo ferrovie dello Stato Che ha a disposizione molti miliardi, sono miliardi veramente perché poi l'esecuzione del progetto è molto onerosa Nel piano degli investimenti 2022-2026 Comunque si parla di anni di là da venire Per l'accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche dell'alta velocità Insomma i binari adesso non sono adatti per fare transitare i treni ad alta velocità E quindi bisogna ristrutturare il tutto E l'occasione invece di mettere le mani sul vecchio percorso è quello di spostare la ferrovia leggermente verso l'entroterra Il comune di Fano avrebbe già individuato nella zona Chiaruccia Forcolo La località per installarvi la nuova stazione ferroviaria Mentre il luogo è molto idoneo perché poi lì c'è la confluenza veramente delle principali arterie cittadine L'autostrada 14, la superstrada Fano Grosseto Insomma è una zona, un nodo di traffico particolarmente importante Mentre la vecchia stazione servirebbe per collegare appunto questa nuova stazione al centro della città Il tracciato potrebbe affiancarsi all'A14 anche oltre la località di Tombaccia e Metauriglia Di spalla, sempre sul resto del calino, abbiamo una notizia di cronaca Sono i controlli che continuamente svolgono sia i carabinieri che gli agenti del commissariato di Fano Quest'ultimi hanno così individuato ancora spacciatori nella zona della stazione ferroviaria Che è un punto molto sensibile per quanto riguarda le indagini E' stato individuato un brasiliano di 20 anni che aveva con sé 5 grammi di cocaina nascosti negli slip E poi anche un amico africano che è stato trovato con 2-3 grammi di ascis ed è stato segnalato alla prefettura E a casa sua, la casa del brasiliano, gli agenti hanno trovato 200 grammi di ascis e circa 30 di marijuana Destinata a giovani o giovanissimi Il ventenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio Quindi un'altra azione dopo quella dei giorni scorsi fatta dai carabinieri In centro storico e anche nella zona della stazione che ha avuto successo E vediamo qui un lutto Devo dire che i giornali questa mattina riportano diversi lutti Sono deceduti tre personaggi particolarmente noti Il resto del Carlino dedica un'intera pagina a Fausto Mazzanti Un giocatore del Fano Calcio Il calcio lo piange, si è spento a 72 anni a Piobbico Era malato da tempo In gioventù aveva militato prima con l'Alma Juventus e poi anche con la Visse Pesaro Ebbene è un'altra vecchia gloria del nostro calcio che se ne va e se ne è andato troppo presto a 72 anni E poi vediamo, e ve lo dico subito, gli altri lutti In questa foto notizia pubblicata dal Corriere Adriatico abbiamo il decesso dell'imprenditore Edile Angelo Candiracci Che è deceduto a 82 anni Era un imprenditore benemerito che aveva così collaborato tantissimo con la protezione civile di Fano Aveva così dato molte... aveva fatto degli investimenti Più che degli investimenti aveva fatto degli atti di liberalità a favore della protezione civile In modo particolare aveva donato quella casetta dove moltissimi, tantissimi i fanesi durante il periodo del Covid avevano fatto il tampone Il CB Club Mattei ricorda che aveva donato la casetta per i tamponi Lo dice proprio qui in questa piccola didascalia E l'altro lutto è quello provocato dal decesso del dottor Massimo Cecconi Un medico di base, molto conosciuto, molto stimato Anche lui giovane, morto all'età di 63 anni a causa di una emorragia cerebrale Una morte improvvisa, nessuno se l'aspettava Massimo Cecconi era sempre presente, impegnato nel suo lavoro, affabile come sempre Aveva una pletora di assistiti veramente importanti Assistiti che lui corava non soltanto nel fisico ma con i quali intratteneva anche un rapporto amichevole E parlava di tante cose Lo stesso Massimo Cecconi era appassionato di diverse cose Era appassionato di musica e aveva così la passione anche per la storia Tant'è che militava nel gruppo della Pandolfaccia e durante le sfilate interpretava il personaggio di Carlo Malatesti Fratello di Pandolfo III Malatesta, signore Carlo, signore di Rimini Ebbene, morto Massimo Cecconi, purtroppo un altro lutto Ora i pazienti saranno assistito dai colleghi del dottore fino alla nomina di un sostituto da parte dell'azienda sanitaria territoriale Riprendiamo il resto del Carlino e vediamo anche che si è tenuto un incontro di carattere politico Tra le forze che si riconoscono nel centro-sinistra Sinistra e centro-sinistra Insomma, alternative al centro-destra, diciamo meglio Ebbene, si parla di problemi di carattere politico in vista delle prossime elezioni Ma ancora si è in alto mare Perché questa riunione che si è svolta in realtà non ha messo dei punti fermi Insomma, non è arrivata a nessuna conclusione Il campo largo del centro-sinistra non fa passi avanti Questo è l'inizio di questo articolo scritto dalla Marchetti Giornalista del Carlino L'attuale maggioranza, disposta a rinunciare alle primarie solo di fronte al Van Basten Così come l'ha definito Massimo Seri Al momento non c'è E quindi non c'è un accordo E poi c'è anche l'idea che non viene ancora condivisa da tutti Per quanto riguarda le primarie Insomma, la parte un pochino dissenziente del centro-sinistra Dic dice che le primarie si giustificano all'interno di un partito Ma difficilmente all'interno di una coalizione Primarie sì, primarie no Il campo largo è ancora nel pantano Andiamo alle altre notizie Celermente vediamo come ieri si è tenuta una importante inaugurazione Alla Saipem Una delle ditte più prestigiose del nostro territorio 1.100 dipendenti Veramente una cittadella vicino all'interno, anzi della zona industriale di Bellocchi Saipem si rinnova Fano un punto di riferimento Ebbene è stata costruita una palazzina Secondo i più moderni criteri di costruzione Una palazzina dotata di tanti tanti servizi a favore dei dipendenti Abbiamo una palestra, abbiamo un centro sanitario Addirittura c'è anche un servizio psicologico Ci sono sale meeting, postazioni di lavoro ovviamente E c'è anche un bar, una caffetteria Insomma tutti i servizi più all'avanguardia Per dare la possibilità ai dipendenti Di svolgere serenamente, comodamente il loro lavoro E non c'è, insomma è inutile dire poi Quanto la Saipem sia un'azienda qualificata Che ha commesse in tutto il mondo Opera ovviamente nella ricerca Del gas, degli idrocarburi Tubazioni, pip line Insomma sappiamo che cosa Qual è il settore in cui opera La Saipem che ha assunto L'eredità della Snam Progetti E poi dobbiamo dire che Oltre ai 1.100 dipendenti Ci sono altri 1.000 operatori Che costituiscono l'indotto dell'azienda Quindi pensate quanto influisce Nell'economia del territorio Questa azienda la cui sede centrale è Milano Ma Fano è tenuta in grande Ha detto l'amministratore delegato Puliti In grande considerazione Niente settimana corta Alle medie a Marotta Non si è raggiunto il quorum del 70% Nelle votazioni che hanno rilevato Il parere dei genitori Niente settimana corta Alle medie il verdetto a scuola Si va anche il sabato Il sondaggio tra le famiglie Non ha raggiunto la maggioranza qualificata Del 70% Nel sondaggio indetto all'istituto comprensivo Fa di Bruno La percentuale dei favorevoli alla modifica Ha sfiorato il 60% Ed è stata esattamente del 59,28% Ma non è stata sufficiente Per approvare questa modifica Abbiamo poi un articolo che riguarda Un investimento di particolare importanza Della Regione Marche Sulle strade del nostro territorio Manutenzione strade ed energia Addio 70.000 euro a fondo perduto Ebbene Pergola sembra che abbia perso Questo finanziamento Dato dalla Regione Tra i vari fallimenti della giunta Targa PD Pergola Unita C'è anche la perdita di almeno 70 milioni E quanto ha rilevato La parte opposta Pergola nel cuore E la lista civica Che ovviamente contrasta La parte che in questo momento Guida la città Lo hanno di questa lista Fanno parte anche L'onorevole Antonio Baldelli E l'assessore regionale Fratello Francesco Baldelli Oltre che Marta Oradei E Luca Castratori Che sono qui insieme Nella foto Vedete i due fratelli Baldelli E poi Luca Castratori E Marta Oradei Giriamo ancora la pagina E siamo ad Urbino Dove si discute ancora Per la soppressione Delle corse e dei bus Durante le festività Un danno per il turismo Il caso Trasporti Viene esaminato in consiglio Trovate una via Una soluzione Per risolvere questo provvedimento Che danneggia appunto L'economia urbinate E poi abbiamo L'esito del processo Che è stato celebrato Per tutelare una soldatessa Che durante un'esercitazione a Carpegna È stata colpita da un colpo Sparato appunto Dal esercito Soldatessa ferita In esercitazione Quattro condanne E tre assoluzioni Ebbene Che cosa è accaduto? È accaduto Che l'ex soldatessa Vanessa Malerbi Era presente a queste esercitazioni Il 12 giugno del 2018 L'esercitazione era quella della Folgore Ebbene È stata colpita Da un colpo Tirato male E ha avuto Delle ferite Piuttosto serie Che le hanno provocato Anche Dei problemi Traumi Ferite Fratture Soprattutto Le hanno tolto La vista E l'udito Dal lato destro E ha avuto anche Difficoltà Nella masticazione Quindi Dei problemi seri La tesi dell'accusa Era che una serie di errori Avesse provocato La deviazione Della traiettoria Del colpo Però gli imputati Sono stati riconosciuti Colpevoli La vittima subì Appunto Questi effetti Ed ora È in attesa Del risarcimento Che avverrà Con il processo civile Cittadinanza onoraria Diamanti e Monaco Per quanto riguarda Urbino Si tratta di un sociologo E di un politologo Molto noti Avranno il riconoscimento Del comune Di Urbino Da tempo Carlo Da tempo Scusate Ilvo Diamanti Originario Di Cuneo È professore Associato Di sociologia Economia Urbana Nella Università Di Urbino Mentre Monaco Entrato Nell'Ateneo Nel 1979 E diventato ordinario Di diritto penale Nel 1985 E oggi È professore Emerito Due figure Di particolare importanza Che ora avranno Questa Gratificazione Cittadini Onorari Della città Ducale L'alberghiero Verso Cagli Piobbico Alza le barricate Si pensava Per quanto riguarda Le unificazioni scolastiche Che l'alberghiero Potesse avere Una unificazione Con un territorio Con il quale Aveva già Stabilito Dei contatti In realtà Sembra che La provincia Abbia deciso Diversamente Ormai La riorganizzazione Della rete scolastica Con il ridimensionamento Degli istituti Sappiamo che Il governo Ha deciso Per un accorpamento Non vada bene Insomma Non risponda Alle aspettative E quando Siamo stati informati Leggo appunto Sul giornale Quando siamo stati informati Che il celli di Cagli Non aveva i numeri Per stare in piedi Ci è stato proposto Di aggregarci Al della rovere Di Urbania E abbiamo accettato Con entusiasmo Ha detto il sindaco Alessandro Urbini Questi due comuni Stanno intraprendendo Infatti Un percorso Sempre più parallelo Con la stessa Unione montana Invece Che cosa accade? Accade Una cosa diversa Una casa diversa Perché l'alberghiero Va verso Cagli E appunto Piobbico Alza le barricate Vediamo ora Qualche notizia Di Pesaro Dove L'articolo Di apertura È dedicato Al tennis Eccolo qua Al tennis Sinner Veramente Fa da attrattore A tutti i giovani Che O si erano avvicinati O stavano per avvicinando A questa pratica sportiva Effetto Sinner E Coppa Davis C'è il pienone Nei circoli di tennis Ora è dura Trovare campi liberi E sono tantissimi ragazzi Che affascinati Dal personaggio E dalla bravura Di questo tennista Che ha così Riproposto La La forza Voglio dire E alla superiorità Di questo sport Per quanto riguarda L'Italia Ebbene Questo fa sì Che ci sia un effetto Trascinatore Il fenomeno È esploso Già Alle ATP Finals Ma ha contribuito Anche il successo Del nostro Nardi Nardi Un giocatore Pesarese Che si sta facendo Onore In tutti i campi Protestano Gli ambulanti Che vengono Trasferiti Nei pressi Del Genica Non sta bene Questo trasferimento A un gruppo Di ambulanti Li vediamo qui Nella fotografia I commercianti Del settore alimentare Contestano La nuova Dislocazione Delle bancarelle Quel posto Hanno detto Non è adatto A noi Avevamo trovato Un accordo Poi hanno cambiato Tutto La nuova Destinazione È completamente Inadatta Hanno detto In estate C'è caldo La puzza L'acqua stagnante Vicino Al Genica E l'imminente Spostamento Dei banchi Dall'attuale Parcheggio Del curvone Di via Della marca Alla nuova Individuata dal comune Dall'altra parte Della ferrovia Ha veramente Scatenato Le ira Degli ambulanti E guardate Questo parterre Guardate quanto è bello Non so se Riuscite a vederlo bene Ma è L'itostrato Del pavimento Del duomo Un elitostrato Che risale Ai primi secoli Del cristianesimo Un pavimento Musivo Di grande importanza Che purtroppo È scarsamente Visibile Perché poi È coperto Dal pavimento Nuovo Questa foto È stata scattata Quando sono state Effettuate le ricerche Ed è stato scoperto Ora ovviamente Questo non si vede Nella sua interezza Ma che cosa fa L'arcivescovo Di Pesaro Lo vediamo qui Nella fotografia Ebbene Amplia Con delle vetrate Gli spazi Per vedere I punti più belli Di questo pavimento Cattedrale Lavori in corso Parte La riscoperta Dei mosaici Via il marmo E largo Al cristallo Il cristallo Che consentirà Di vedere Appunto Il primo pavimento Della cattedrale Di Pesaro E vediamo ancora Altre notizie Lotta Alle malattie Cardiovascolari Il progetto Di un giovane Laureato Infarto Un kit Per salvare Le vite Si tratta Di un 28enne Di Cantiano Che spiega Il suo metodo Per la diagnosi Precoce Con i marker Secondo Al premio CNA Si tratta Di un ricercatore Che ha Così Ideato Un piccolo Impianto Un piccolo Macchinario Ciò che consente Quando uno Sente dei sintomi Particolarmente Preoccupanti Di fare subito Una diagnosi Veloce E sapete Quando in Fatto di infarto Il tempo Sia una Componente Decisiva Per poter salvare La vita Ebbene Un progetto Che deve essere Tenuto In grande In grande Considerazione Ed ora Diamo un'occhiata Al corriere Adriatico Vediamo L'articolo Di apertura Dedicato Alla politica E all'incontro Che c'è stato Tra le forze Alternative Al centro-destra Freddezza Nel campo largo Ostacoli Al primo incontro Il Movimento 5 Stelle Con i 5 alleati Chiede Di superare Le primarie E rivedere Alcuni temi E qui vediamo Due interlocatori Importanti Il segretario Del Partito Democratico Renato Claudio Minardi E Andrea Serafini Che è un po' Il coordinatore Del Movimento 5 Stelle E poi L'articolo Del dottor Cecconi Professionista Di medicina Generale Molto noto Colpito Da emorragia Cerebrale L'articolo Della Saipem La Saipem Investe E rilancia La sede Di Fano Qui capacità Riconosciute Nel mondo L'amministratore Delegato Puliti Inaugura Con il sindaco Gli spazi Ristrutturati Che chiedono Che offrono Anzi Migliore funzionalità E accoglienza Ci saranno Sale Per ospitare La delegazione In visita Palestre Smart Clinic Per 1100 Dipendenti Come abbiamo detto Una città Nella città Passiamo A Fossombrone A Fossombrone Un atto Inqualificabile La panchina Rossa Vandalizzata Proprio Nel momento In cui Tutte le località Stanno celebrando La giornata Internazionale Di sensibilizzazione Contro la violenza Sulle donne Ebbene C'è chi C'è chi Rima In senso Contrario Con dispetto Con tracotanza Con provocazione La panchina rossa Vandalizzata Non solo È stata vandalizzata La panchina rossa Ma sono state Gettate per terra Le scarpette rosse Che erano state Posizionate Proprio sulla panchina Scarpette Buttate via E messaggio Senza senso Sdegnata La reazione Dei volontari Speriamo Che si trovano Appunto Questi operatori Vediamo Ancora Tra le altre notizie Siamo a Senigallia Ruspe All'opera Nel Misa E nei fossi Preveniamo Rischi idrogeologici Ebbene La Senigallia Si attrezza Per prevenire Altre alluvioni Che sono state Veramente Disastrose E con Questa notizia Terminiamo La nostra Rassegna stampa Dandomi appuntamento Come sempre Alle 7 Di domani mattina Grazie per l'ascolto A risentirci A risentirci A risentirci A risentirci A risentirci A risentirci Grazie a tutti.